Arezzo chiude il 2021 con una crescita importante per quanto riguarda la raccolta di sangue, plasma e multicomponenti. Un aumento del 3,24% che si attesta tra i migliori risultati della Toscana, che a livello invece regionale è alle prese con una contrazione generale. Lo riportano i dati relativi allo scorso anno, illustrati dalla presidente di Avis Toscana in occasione dell'Assemblea regionale dell'Associazione. Numeri influenzati da diversi fattori, dalla campagna vaccinale alle varie ondate del virus, dalla riduzione degli orari dei centri trasfusionali, fino al calo del personale sanitario e alla ridotta promozione. Meno che ad Arezzo, che rispetto al 2020 registra 515 donatori in più. A trainare la crescita è stata la raccolta di sangue intero, chiusa con un segno più del 6,46%. Nella maggior parte della Toscana, prosegue la presidente, si registrano invece risultati e numeri negativi. Ma grazie ad un impegno enorme da parte di tutti, siamo pronti a rilanciare la raccolta di sangue e plasma. Da un lato potenzieremo la campagna di sensibilizzazione in un'estate che si preannuncia più serena della precedente, sfruttando ogni mezzo possibile. Dall'altro dovrà aumentare l'efficienza del sistema trasfusionale, così da non disperdere gli sforzi dei donatori. Dall'altro dovrà aumentare l'efficienza del sistema trasfusionale, così da non disperdere gli sforzi dei donatori.